Sono agli uffizi perché oggi martedì 29 marzo torna l'adorazione dei magi di Leonardo dopo 5 anni di ristauro. Bella eh? Leonardo ci ha lavorato due anni dal 1481 all'82. Poi l'ha lasciato incompiuto perché se n'è andato a Milano. E la potete ammirare fino alla fine di settembre nella mostra temporanea degli uffizi intitolata Il Cosmo di Leonardo. Nella sala accanto c'è anche l'adorazione di Filippino Lippi che è quella che i frati di San Donato a Scopeto ordinarono quando realizzarono 12 anni dopo che Leonardo non gli avrebbe mai completato la sua adorazione. Grazie a tutti.